Dopo una piccolissima presentazione di alcuni degli animali che vivono dalle nostre parti, ho ritenuto di fare un piccolo omaggio alle terre vicine a casa mia, quindi Italia e Spagna, e farvi vedere alcuni degli animali che riprendo abitualmente senza allontanarmi troppo da casa. Questo è una sciola, un piccolo uffo che purifica nel periodo estivo. E' una piccola sova che viva ptienzo nel periodo. E che nutre i piccoli con insetti, in questo caso è una cavalletta. E quindi sono sessioni di fotografia notturna. Qui cambiamo completamente genere. Questo è un gambero rosso. E' un gambero non originario dell'Italia, ma che ha invaso fiumi e torrenti delle acque italiane, spagnoli, francesi, eccetera. E che qui mi interessava farvi vedere nel suo ambiente, questo è ripreso sotto a quel piccolo ruscello poco distante da casa mia. E mi sembra molto interessante sfotografiare il suo amico. E qui si fotografia sotto a quel piccolo ruscello, il suo piccolo ruscello. Questo è un palco di palude. Palco di palude per l'Italia è un migratore. Quindi non si ferma tutto l'anno, ma arriva solo nel periodo estivo. E questo è stato ripreso a poca distanza dal lito. E qui mi sembra di dare un po' a vista. Naturalmente non sto entrando in dettagli tecnici dal punto di vista fotografico, ma se qualcuno ha delle domande, interrompetevi senza problemi. Mi farà molto piacere rispondere alle vostre domande. E questo è un moscardino. E' un piccolo animale che vive nei boschi. E questo è veramente un animale fotografato. a brevissima distanza da casa mia, perché ero fotografato nel mio giardino. E questo è stato fotografato nel mio giardino. Questa peraltro è una foto che ha vinto alcuni concorsi molto importanti al periodo nazionale. Questa è un altro abitante del mio giardino, di cui mia moglie non è felicissima, naturalmente. Si chiama Saitone, è un serpente totalmente innocuo, ma molto particolare. Questo è un'immagine. Questo è un'immagine. che viene fatta con un'artica grandangolare. ma con un grandangolare per far vedere meglio l'ambiente in cui vivono. Questi animali sono ripresi in un sito in cui stiamo alimentando da circa 4 anni, e quindi sono ormai abituati a farvi vedere e fotografare quali dovrebbero essere. Questi animali sono ormai abituati nel mio giardino. Questa è una vigra, è un serpente italiano venenoso. Questo èaltra cattavia, italiancola venenosa venenosa. In italiano, ma non so, lo avete anche qui. Qui in genere c'è una forma, melannica, quindi completamente nera. Questo è un'impasto espello veneno, qui anche ha un veneno, ma anche unaOSPEL, che è ampio in maniera da vediamo. La differenza tra la vostra veneno è questa e la colorazione. Questa è decisamente più chiara, eh, tra la vostra veneno. Questo scatto è stato fatto con un'ottica macro da brevissima distanza, da circa 10 cm dal mondo del serpente, proprio per esaltare questo gioco di sfocature. Questa è un problema? Non, allora, potrebbe mordere, ma la cosa più vicina è che morderebbe l'obiettivo, non un fotografo. Questa è l'appoppiamento di rospi comuni. Questo non c'è molta luminosità, ma quelle che si vedono dietro, in mezzo ai rami, sono tutte le uomo appena deposte dai rospi in questo piccolo corso d'acqua. Questa è una ragamella, una piccola rana che vive sugli arbre. E che mi piaceva riprendere così, dove si vede solo in trasparenza, sopra una foglia, e non l'animale molto diretto. E mi piaceva fare così, dove vedono solo il siloico, ma non l'imposte, ma non l'imposte. Questo è un lupupà. Questo è un lupupà. Lupupà, che credo sia lubbificante anche in Russia. E' un animale che fa il nido in buchi o di piante, o di tronchi, come in questo caso, oppure nei buchi di vecchie case. In questo caso ho scelto uno scatto particolare, perché avevo già molti scatti di questo animale che tornava nido. E quindi ho montato due flash nella parte posteriore dell'altra parte dell'animale. E quindi ho scatto esposto in fase di ripresa di cinque scatto. E' un spatto esposto in margine. E quindi ho scatto esposto in fase di ripresa di cinque scatto. per avere solo i contorni dell'anica questo invece è un passero solitario è un animale tipicamente legato alle zone calde vicino al bambino d'Italia che nella letteratura e nella storia italiana è molto famoso perché ha ispirato una poesia importante di uno dei più famosi poeti italiani e la cosa simpatica è che nessun italiano sa che il nome di questo animale che questo animale esiste per davvero non è solo una poesia questo è un giovane buco comune questo è un tritone pigmeo fotografato in Spagna è una piccola salamandra ma con questi colori molto molto accesi fotografati su quelle piante rose che sono delle piccole piante che crescono in mezzo al muschio e è un animale che racconta molto bene e questo è un animale che racconta molto bene e questo è un animale che racconta molto bene è un animale che vive tutto l'anno in Africa e migra verso nord per la riproduzione durante la primavera dell'estate 20 anni fa questo animale quando arrivava in Italia si fermava solo ed esclusivamente nell'estremo sud dell'Italia nei 10 anni successivi ha cominciato a spostarsi sempre più nord arrivando all'Italia centrale negli ultimi anni è un abitatore normale dell'Italia del nord e ci sono stati i primi abistamenti in Svizzera oltre d'Alpi questo è un lupo italico è un animale considerato piuttosto raro in tutta Italia abbiamo circa 900 esemplari di lupo e quindi piuttosto difficile da abistare e intorno al lupo c'è una grossa discussione in corso e per questo è abbastanza difficile lo vedere perché nella credenza popolare molte persone sono convinte che il lupo sia pericoloso per l'uomo per i bambini e proprio negli ultimi giorni in Italia c'è stata una grande discussione al governo per decidere se ridurre il numero dei gruppi uccidere loro oppure salvaguardati e una volta tanto ha detto il buon senso e quindi si è deciso di tutelare i lupi e di non rigore loro questa è una poiana è una faccia molto comune in Italia, in Spagna e in Francia è un animale tipicamente notturno come potete vedere da questo scatto e anche questo come i tassi che avete visto prima sono animali che abbiamo abituato a frequentare un certo sito per poterli riprendere in modo accurato questo si chiama Ameles spallanzania è un insetto piuttosto raro 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 fa parte della famiglia delle mantilli e questo scatto riprende un controluce di questo insetto con il sole che sta tramontando in riva mare vive tipicamente nelle zone di dune vicino e fotografiato sul mattino il sole si vive tipicamente vicino a Dune questo invece è un pescatore molto diffuso il nome italiano martin pescatore significa buccello che pesca il nome italiano martin pescatore significa che questa piazza lovita e infatti è un buccello che vive solo esclusivamente mangiando piccoli pesci e davvero questa piazza vive soltanto che poedano piccoli pesci credo che questo sia molto comune anche questa piazza io credo che questa piazza è molto tipica è molto più importante quindi Grazie.